Qua se viene sul marco siamo in zona a rischio Qua è lunga è lunghissima è lunghissima la mia non arriva a zero e chi è a zero minchia 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 credibile eh sì eh osti quarta quarta se chiudevi come hai fatto lì stavi lì perché lì ti ha tirato su perché hai riaperto no io ho saltato ho preso il ceppo ho saltato non lo vede neanche non lo vede neanche se come spuzza di nuovo credibile odora di nuovo annusa 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 ma non ci pensare neanche annusala e basta non si prova le moto nuove sei fuori questo mi salta addosso eh lo sapevo che faceva la mia stessa cagata uguale preciso preciso uguale a chi ho fatto no io lì sono dato dritto no io ho preso il tronchetto mi sono accorto quando l'ho imbucato ho detto stia dopo l'ho pelata su in qualche maniera ma la vertigo è più lunga eh sì intendo riesce a gestirla invece queste qui non ogni tanto sbaglio ma dentro la quarta non la tiglia io hai visto qua che ho patinato in quarta minchia è una salita da scorpa eh no no questa è quarta questa è quarta però eh questa è quarta basta la lasci lì ma non c'è niente non devi saltare basta non mi piace come viene su no ma è giusta è così per fuori figaro è lunga 200 metri cazzo lui quarta è arrivato su diversa la sua ma io sapevo che la mia era corta la terza qua la quarta è inutile di quella moto ti hai imparato anche a cambiarle marce io non sapevo neanche il cazzo di marcia era adesso ha imparato no ma vedi che là mi sono fermato aspetto la moto l'ho messa in quarta mano ah ecco ah mo capì ci manca il contamano finirebbe di toccare o il pignone e la corona io l'ho provato ma aveva detto ci rimette il pignone più corto sì ma dopo la seconda è inesistente no certo dopo fai tutta la terza quarta quinta c'è cinque marce che ti tena lì e lui con sei marce c'è la quarta che è la una ascolta questo è cinque ma le stesse non so poi a me perché non mi piace sentire il motore che gira così metti lì su fuori giri quando va fuori giri si spegne ottima idea no ma giù ma giù la boda deve rifare ancora beh tutti i posti che c'erano guarda che finiscono l'Sd solo con quel video qua ho visto la morta in fase ho visto una montesa da cento perché sei arrivato tardi tu dovevi vedere quando è iniziato lui come la vedevi ma proprio in faccia la vedevi e la sentivi anche più di una volta la matica scorsa sulla sulla salita di roccia con le radici in mezzo che le moto volavano e quei la le prendevano al volo eeeh ce la farà non ce la farà 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 quasi in un modo o nell'altro ce l'ha fatta posso spegnere Vito? posso spegnere? basta vengo anche la mia a posto e provo io con... dai prova ciao